E iniziamo a chiacchierare, una chiacchierata lunga di 40 minuti, mai successo, e parliamo insomma del più e del meno, poi prima di buttare giù il telefono lei mi dice, nonna ora non ti posso vedere, non ti posso dare i soldi, fisicamente ti faccio una ricarica, una ricarica telefoni, e lei era fissata con le ricariche telefoni, come chissà che telefonate io facessi. Chiudiamo la telefonata, dopo 20 giorni, 25 giorni, mi chiamano da giù dicendo non è stata malissimo, e dopo poche ore insomma io ero già partito, già dal sta male io ero già partito per ritornare giù a Maratea, e nel tragitto mi hanno detto che non ce l'ha fatta, e lì è stato uno strazio, uno strazio, guarda ero più distrutto io, i miei zii erano sconvolti, ma io ero proprio straziato, perché era veramente parte proprio del mio cuore, c'è, quindi vado giù, insomma i funerali tutto, ritorno a Roma, riprovo a apprendere a studiare, insomma, però non ce l'ho proprio con la testa.